Io ho parlato con Nicola a settembre 2015 prima di chiedere a Federica di sposarmi e in un momento di confidenza tra me e lui mi ha chiesto di prendermi cura di Federica e anche di Daniele e di Francesca. In quel momento mi sono veramente sentito di promettergli che mi sarei preso cura di loro ma è stata una promessa fatta veramente con il cuore ma di cui intimamente non sapevo se sarei stato in grado di portarla a termine, di rispettare questa promessa. E oggi mentre eravamo in chiesa, mentre promettevamo davanti a Dio, questo per sempre, ho pensato moltissimo a Nicola e oggi sì, sono veramente sicuro di guardare al cielo e dire a Nicola sì, rispetterò la promessa. Grazie a tutti di essere venuti e godetevi che sta venendo e sperando. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!